Ciao a tutti da Saludatore, ecco qui mi trovo con un grandissimo artista, Beppe Convertini. Ciao Beppe. Ciao a tutti gli amici, noi vi volevamo dire che qui siamo alla pefana poliziana, veramente più piccoli, io oggi ho un giorno di festa per loro e soprattutto perché i poliziotti ci salvano tutti i giorni sulle nostre strade, sono davvero eccezionali e quindi va davvero un plauso a tutta la polizia italiana. E in più volevo raccontarvi di questa mia ultima opera che si chiama I bambini di nessuno che è appunto un racconto fotografico delle mie missioni umanitarie in Siria e Birmania, Berter de Zom, edito da Mayora e ricavato di tutto ciò andrà a favore dei bambini siriani e dei bambini birmani, quindi andate a prendere questo libro perché veramente farete un'azione buona non solo a Natale, a Capodanno, non solo a Rabefana ma tutti i giorni. Un piccolo gesto per aiutare i bambini siriani e birmani e qui a Roma lo trovate alla Fettinelli e via Domaceli, quindi vi aspettiamo. Ecco, non mancate, io ti ringrazio per questo tuo contributo per questi bambini che ne hanno bisogno e ti saluto, noi ci salutiamo da salutatori e soprattutto vi salutiamo a tutti quanti e online dove trovano... Anche sul sito di Terre de Zom, quindi potete trovarlo se volete. Grazie a te Beppe, un saluto a tutti, buona Befana. Ciao!